Adesso cambiamo argomento. In attesa di conoscere l'esito della sentenza del TAR che oggi si è pronunciato sulla richiesta di sospendere il referendum, richiesta avanzata dal Comitato del No, questa sera diamo spazio invece a chi la fusione la promuove. Con noi c'è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Il tempo che ha questa sera per poter spiegare e laddove è possibile anche convincere i telespettatori che andranno a votare domenica al referendum, perché è vantaggioso fondersi con il suo comune? Perché abbiamo bisogno di comuni più forti. 8.000 comuni italiani, così come li abbiamo conosciuti, non reggono più. Questo vale per tutti i comuni e ha maggior ragione per i piccoli comuni. Vogliamo comuni più forti per risparmiare, perché da tanto tempo diciamo che si vuole una pubblica amministrazione più efficiente e mettendo insieme i due bilanci avremo da subito mezzo milione di risparmio. E soprattutto lo vogliamo fare per fare, per chiudere le buche nelle strade, per mettere a posto le scuole, per mettere a posto i nostri beni culturali, perché la fusione ci darebbe non solo uno sblocco del patto di stabilità, ma grazie anche all'emendamento oggi approvato, 2 milioni all'anno per 10 anni. Cioè invece di dare noi soldi a Roma, da Roma arriverebbero per 10 anni 2 milioni all'anno per le nostre spese. E allora questo vale per tutti, è una grande opportunità ovviamente per il comune di Pesero, ma è un'opportunità storica per Monbaroccio, perché gli investimenti che abbiamo concordato con Monbaroccio, 5 milioni in 3 anni non li farebbe neanche in 30 anni, perché avrebbe tutti i benefici dello stare in un comune grande e al tempo stesso mantenendo l'autonomia. Perché Monbaroccio non diventa frazione di Pesero, ma Monbaroccio rimane municipio, con la capacità decisionale sulle cose che riguardano Monbaroccio. Non si potrà decidere nulla che riguarda Monbaroccio se i monbaroccesi non saranno d'accordo. Qualche esempio? In fondo la campagna è molto semplice, vuoi chiudere le buche nelle strade, vuoi sistemare i tetti delle scuole, vuoi mettere a posto il Beato Sante, vuoi mettere a posto il castello di Monbaroccio, vuoi un impianto sportivo migliore, vota sì. Ti van bene le cose così come stanno? Vota no. In fondo il referendum è molto semplice, è un referendum molto pragmatico, qui la politica non c'entra niente, non è un referendum contro il sindaco, pro contro il sindaco di Monbaroccio. Qui si deve decidere se i Peseresi e i monbaroccesi vogliono essere un'avanguardia nella riforma dei comuni e vogliono avere un comune che mantiene i servizi, che li sviluppa possibilmente e che faccia le cose. Se ci van bene le cose come stanno, continuiamo a lamentarci e continueremo a avere le buche nelle strade e le cose che non vanno.